Ciao a tutti e benvenuti a questa lezione Crea il tuo canale su Twitter Oggi vediamo come fare retweet con Twitter Cosa vuol dire fare retweet? Vuol dire condividere un contenuto che può essere un post, un'immagine, un sondaggio, un video Quindi un qualsiasi contenuto che è stato pubblicato da qualcun altro su Twitter noi lo possiamo condividere e l'azione di condividere si chiama retweet Andiamo direttamente a Twitter e vediamo come si fa Siamo sul mio canale Andiamo a prendere un post che ci piace Ho trovato un post che mi farebbe piacere condividere Eccolo qui E vedete vado sotto la foto che c'è nel post Il secondo bottone da sinistra è il bottone del retweet Se clicco su retweet vedo che posso aggiungere un commento personale oppure posso cliccare semplicemente su retweet Nel momento che clicco su retweet Se vado di nuovo sulla home di Twitter Vedete? Trovo subito che cosa c'è scritto Hai retweetato e vedete che nello stream La parte centrale della home che si compone con i miei post e con quelli delle persone che sto seguendo Appare il retweet che ho fatto Il retweet apparirà se vado anche nel mio canale Vedete in cima al mio canale Come l'ultimo tweet che ho appena fatto Per cui per questa lezione è tutto E ci sentiamo alla prossima Ciao